Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Barbara D'Urso potrebbe fare il suo ritorno in televisione presto. Dopo aver affidato il suo programma Pomeriggio 5 a Mirta Merlino, la D'Urso si è dedicata principalmente al teatro, girando l'Italia con lo spettacolo Taxi a due piazze. Tuttavia, il suo contratto con Mediaset sta per scadere il 31 dicembre, e secondo voci di corridoio, potrebbe approdare su 9 per condurre un nuovo programma. «Prima di questo possibile nuovo progetto, potremmo vederla ospite da Mara Venier, che l'ha invitata nel suo programma. Ho chiesto se le va di venire. Tuttavia, il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla», aveva dichiarato Mara. Tuttavia, secondo Novella 2000, diretto da Roberto Alessi, la D'Urso potrebbe già essere al lavoro su un nuovo format. Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l'otto. In realtà, Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione che trattava cronaca, dibattiti e attualità, chiamata ogni mattina, condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola. Riporta Novella 2000. Nel frattempo, Barbara D'Urso continua a godere dell'affetto del pubblico mentre si prepara a nuove sfide televisive.